Qui potete vedere la nostra linea di zaini, il Dragonfly e il worto. Il Dragonfly viene su tre volumi, 10, 18, 25 litri. Sono degli zaini estremamente leggeri che si possono compattare e quindi portare anche durante l'avvicinamento in uno zaino per fare poi delle vie in quota o dell'alpinismo. Abbiamo una cordura 420 denari, quindi comunque molto resistente, con due portapicozze e un sistema di chiusura rapido, quindi viene proprio molto leggero, pulito e essenziale. I wortog invece sono degli zaini più robusti, più accessoriati, sempre in 420 denari cordura e un ballistic 1680 e hanno in più un cappuccio con un portacasco incluso. Quindi sono degli zaini più resistenti da utilizzare tutto l'anno anche per fare sempre alpinismo o ghiacci. Il volume più grande ha anche due cinghie di compressione per portare anche gli sci, quindi è veramente uno zaino completo d'alpinismo.